A.Z.S.P.A. si prepara alla nona indagine biennale sul gradimento dei suoi servizi. Quest'anno affidata all'Istituto di ricerca Sigma Consulting di Pesaro. Saranno effettuate mille interviste telefoniche, 500 alle famiglie e altrettante alle imprese. In osservanza delle disposizioni anti-Covid non sono previste come in passato domande faccia a faccia. È garantita la massima riservatezza e i risultati saranno illustrati entro la prima decada di dicembre. La gran parte delle domande verterà come sempre sul servizio idrico e su quello di igiene ambientale, ma il nuovo questionario è stato integrato con maggiori approfondimenti riguardo alla gestione delle farmacie comunali, del verde, dell'illuminazione pubblica evutiva, del laboratorio analisi e dei parcheggi a pagamento. Bene, a partire da questa settimana, questa è un'indagine che è dovuta perché A.Z.S.P.A. è una società partecipata, quindi è pubblica, e quindi ogni due anni abbiamo questo obbligo di capire tramite dei sondaggi fatti da delle società adibite a questo scopo il quoziente di gradevolezza e di apprezzamento che hanno i cittadini nei confronti di A.Z.S.P.A. e dei servizi. Le vostre passeggiate e quant'altro, perché quella modalità lì l'abbiamo sospesa per i notti motivi del Covid, ci sarà semplicemente qualcuno al di là della cornetta che vi farà una quindicina di domande incentrate su tutti i servizi che vengono allargiti da A.Z.S.P.A. per noi questo è un confronto estremamente interessante perché ci dà modo di capire le varie criticità che possono sorgere, i problemi che ci sono e come migliorarci. Quindi chiedo a tutti i cittadini di Fano e dei comuni limitrofi che sono serviti dai servizi A.Z.S.P.A. di avere un po' di pazienza e di rispondere come ritengono loro, quindi con piena libertà alle domande che vi verranno fatte.